A Giarre il Consiglio Comunale porta a casa solo una delle due proposte di delibera di debiti fuori bilancio all'ordine del giorno nella seduta di ieri sera. Una seduta che si è rivelata complessa soprattutto per come sono stati proposti dagli uffici i due riconoscimenti. Il primo, relativo ad una serie di espropi, è ritornato in terza commissione bilancio e finanze, peraltro dopo che l'opposizione ha abbandonato l'aula, facendo cadere il numero legale e aggiornando il Consiglio di un'ora. Mentre tra i dubbi e le incertezze si è proceduto al voto solo della seconda proposta, che accorpava in un'unica delibera ben 46 riconoscimenti di debiti fuori bilancio. Tra i consiglieri sulla scelta degli uffici finanziari sono maturate tante perplessità, sia perché è stato complicato vagliare e valutare le singole fattispecie, con il rischio anche di incappare in incompatibilità. I consiglieri comunali, infatti, non possono esprimersi sui contenziosi e sulle pratiche amministrative in genere che riguardano parenti sino al quarto grado. Alla fine però i nove consiglieri presenti in aula hanno approvato la proposta solleticati dall'intervento risolutore di Maurizio Arena, che ha tolto le castagne dal fuoco invitando i colleghi a prendere posizione dopo che, peraltro, erano arrivate le rassicurazioni tecniche su invito di Giuseppe Leotta, rassicurazioni arrivate dal segretario generale Rossana Manno e dall'ex dirigente degli uffici finanziari Giuseppa Leonardi. Il consiglio comunale a Giarre tornerà a riunirsi giovedì sera. Tra i punti all'ordine del giorno il regolamento del centro di urno per anziani di via Berlinguer. Grazie. 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 Grazie.